Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Quanti ricordi in questo posto? Non sono mai stato, però... La tutina, dai, per l'iniziale. Prova, inventa, inventa. Ora splende su di noi, su di noi. Allora, dove eravamo arrivati? Ma no! Vorrei che tu, a mezzanotte tre, stai già aspettando un altro uomo. Comunque io ho studiato, ho studiato da... che ho studiato? D'Antiquario, non volevo dire per non fare... D'Antiquario, è un grande negozio a Napoli di antiquariato. Se venite a Napoli, venite a trovarmi. Il negozio si chiama Cose di altre case. Venite di notte che è meglio. O... O... Viveita, muoi d'Italia, muoi di sole, se stagia come il mamore, e ovviamente l'ultima singola è per me... Io ho sempre davanti agli occhi quell'immagine del bambino sulla spiaggia, purtroppo morto, che era stato vestito bene dalla mamma. C'è i pantaloncini blu, la maglietta rossa, le scarpe nuove, ma era sul bagno asciuga morto. E quindi non devono più succedere queste cose, bisogna fare di tutto per riunirsi in Europa. Però, l'America lascia stare con lo stronzo più hondo e meglio lascia stare. Ma noi che siamo il vecchio mondo, dobbiamo capire questa cosa. Vediamo il primo... Oh! Tutti! Oh! E tanti auguri al centro commerciale Valtietti con il vostro applauso! Poi chiaramente andremo a spurzionare... No! Andremo a spurzionare la torta...